Si è tenuto nella Sala Consiliare del Comune di Gubbio l'incontro La Comunità per le Persone, ovvero la presentazione del percorso di coprogettazione nell'ambito dei servizi sociali, promosso dalla Regione Umbria e dai comuni della zona sociale 7, ovvero Gubbio, Gualdotadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia Pascelupo e Sigillo. Sono intervenuti, oltre agli amministratori locali, i rappresentanti del raggruppamento temporaneo di imprese, che si è aggiudicato la partecipazione alla coprogettazione. ASAD Cooperativa Sociale, il Sicomoro Cooperativa Sociale e Associazione Dis ed Intorni, professionisti ed esperti in tema di programmazione, progettazione, valutazione e sistemi di governance per un'iniziativa innovativa, tesa a sostituire la tradizionale formula della gara d'appalto, proprio al fine di creare un connubio tra pubblica amministrazioni e terzo settore per la gestione, a livello locale, di servizi e di interventi sociali, al fine di elaborare un progetto condiviso. Nell'area del sociale gli interventi si qualificano e danno migliori risposte se vengono pensati, se vengono progettati con il coinvolgimento di tutta la comunità. Che significa in concreto? Significa che le amministrazioni pubbliche, l'amministrazione regionale, l'ente locale, i comuni e le nostre aziende sanitarie si mettono insieme e pensano a progetti per il contrasto alla povertà, per combattere il disagio sociale, per valorizzare le esperienze di giovani, per il recupero del nostro patrimonio e lo fanno coinvolgendo quella comunità viva che c'è, che è rappresentata dal terzo settore, che è rappresentata dal mondo delle imprese, che è rappresentata dal mondo dell'organizzazione sindagale, dell'associazionismo e del volontariato. Tutti insieme pensano a strumenti innovativi per rispondere a questi temi. In questi anni la zona sociale 7 ha conseguito i principali obiettivi posti, come l'approvazione di regole uniche in tutto il territorio per l'accesso ai servizi sociali, il regolamento per la gestione associata, grazie al quale sono stati assegnati 2 milioni di euro di fondi europei, e appunto la coprogettazione delle amministrazioni locali e del terzo settore in un percorso in divenire che vuole adeguare interventi e servizi ai bisogni in continuo mutamento, una sfida tesa a rendere il sociale forte ed innovativo, proprio grazie all'unione di intenti e alla condivisione progettuale. Progettare insieme significa trovare soluzioni veramente innovative, anche un settore che invece ha grandi opportunità e grandi possibilità di sviluppo, e questa opportunità e questo sviluppo si può favorire se c'è un lavoro di squadra che vede coinvolti tutti questi protagonisti.